buongiorno siete sul canale pratiche sartoriali alla moda vi ricordiamo che i nostri video escono tre volte a settimana oggi continuiamo il lavoro con la nostra t-shirt in cotone penso che mi sto facendo un capo molto moderno tutte quelle modifiche che abbiamo fatto con la base le avete già viste nella prima parte attenzione al nostro schizzo il nostro dovere la prima prova è fare una linea girocolo molto arrotondata senza angoli o linee strane quando faremo la prova presteremo molta attenzione a questa linea poi guarderemo bene se serve o meno sfiancare leggermente sul dietro visto che non abbiamo le pence in vita può essere ma anche no se servirà porteremo via nei fianchi anche un po vedremo dopo alla prova ora guardate qui al punto colmo pensino per aver diminuito lampezza dobbiamo spostare questo punto verso il fianco di 1,5 cm via lo schizzo che non mi serve più e spostare questo punto verso il fianco di 1,5 cm e ricordatevi se voi lascerete le pence in vita non sarà più una t shirt io uso un cotone molto morbido ma è sempre in cotone disegnata la pence ora inizio a tagliare il schizzo per adesso lo metto via la mia manica è venuta lunga 23 cm anche se inizialmente volevo 20 sull'orlo ho aggiunto altri 3 cm per fare il margine piegato sulla tromba manica uso margine 0 7 cm e accuratamente a taglio per non aggiungere di più fare margini grandi sul giro manica e anti estetico e per me terribile e per fare un giro colo che sia identico a quello della t shirt c'è una tecnologia speciale di come rifinire con questa striscia che si taglia prima in sbiego e poi si forma con il ferro da stiro non si fa così semplice come sembra noi lavoriamo in modo che nel risultato finale il nostro capo sia identico a una t shirt quindi vi faremo vedere anche questa cosa è importante per questo voglio farvelo vedere accuratamente finisco di tagliare le maniche e poi le metto via sono in difficoltà perché sotto questo tessuto blu che mi intriga ma se lo tolgo non capirete niente perché bianco se bianco non si capisce segno il colmo manica e questa è la parte davanti piccola tacca bene maniche pronte metto via ora davanti qui ho bordo piegato sul centro faccio la spalla più inclinata sul davanti scendo leggermente alla fine verso 3 mm non di più segno linea vita e ora tale il dietro mi è rimasto solo questo e ovviamente non farò vedere tutta l'imbastitura nel video qualcosina tipo le maniche sì quello vi farò vedere perché è importante ma la cosa più importante di questa lezione è fare la prova e spiegarvi a cosa dovete prestare attenzione per una t shirt questo è molto importante imbastire penso che siete capaci tutti e un'altra cosa nel mio caso io ho fatto spalla scesa un centimetro ed è giusto così ma se voi volete fare 15 2 cm di spalla scesa anche quello è giusto non c'è una regola fissa è solo una scelta dovete scegliere quello che piace a voi segno linea vita io sono come al solito quando vuole una cosa non mi ferma nessuno ecco linea vita ecco il mio dietro ecco il davanti linea vita combacia e se chiudiamo la pens anche qui combacia perfettamente abbiamo fatto una modellistica perfetta è venuto in giro a manica molto libero e a me piace così il cartamodello io lo salvo perché di t shirt si possono fare tantissime non penso assolutamente di fermarmi solo a questa è impossibile non ho intenzione di andare in giro nuda trasferisco la pens dall'altro lato perfetto si vede bene tutto inizio ad imbastire mi segno la linea centrale della pens mi segno la linea centrale della pens detto mille volte lo ripeto di nuovo quando piegate la pens dovete lasciare il tessuto che cade libero non tirare o non può accompagnare nessuno dei due lati si così è giusto mi piace perfetto il mio è un cotone morbido che si usa spesso per le camicie da uomo anche se per voi non si vede sul video ma io investisco con il filo bianco perché è un tessuto bianco e usare un filo colorato non mi va perché potrebbe lasciare il segno per questo uso il filo bianco anche se non si vede ma ormai lo capite si imbastisce semplicemente la penseno ora faccio veloce l'altra pens e sul centro dietro ecco qui la mia blusa che sostituirà la mia t-shirt ho imbastito sul centro dietro fianchi e spalle le pens però adesso sull'orlo non ho piegato il margine ora attacco le maniche e facciamo la prova uso un cotone di alta qualità italiano anzi no per prima controlliamo tra di loro la manica con il giro manica ecco il giro manica ed ecco la manica non tirando misuriamo tra di loro vedete abbiamo qui poco di un centimetro per formare la cuffietta ma è un accompagnamento leggero niente arricciature con il filo o altro adesso inizio dal colmo manica e mentre attacco la manica accompagno leggermente la parte alta della tromba e niente e di più anche quando andremo a cucire a macchina stessa procedura anche perché tutto il bilancio della manica classica lo abbiamo già tolto in partenza alla modellistica per adesso non abbiamo problemi farò solo una manica per la prova e quindi ora la facciamo veloce poi facciamo la prova qui accompagniamo leggermente alla parte alta della tromba manica fare arricciature non si può meglio diminuire la tromba se è venuta troppo larga meglio diminuire ma non fare arricciature mi raccomando faccio veloce una manica e poi facciamo la prova per la prova non servono tutte e due anzi io questo lo faccio solo perché una lezione altrimenti non faccio mai la prima prova con maniche imbastite non serve ora imbastisco semplicemente la parte sotto della manica qui non serve adattare lasciar cadere libero come nella manica classica si imbastisce semplicemente tutto intorno deve rimanere questa libertà per questo si imbastisce semplicemente alla prova poi vediamo come va vi farò vedere la prova definiremo il giro colo come vedete la mia manica si è adatta perfettamente al mio giro manica corpino la cucitura a fianco e cucitura interna manica non hanno nulla a che fare l'una con l'altra quindi non deve combaciare per forza anche perché se vi ricordate abbiamo spostato la linea a fianco quindi assolutamente non sfasciatevi la testa perfetto io ora imbastisco veloce per farvi vedere la prova le ragazze fanno questo lavoro con più precisione ovviamente dopo io devo solo capire come si presenta la prova finisco e vado a indossarla sono felice di essere arrivata a questo tema perché è un capo fondamentale che deve far parte del nostro guardaroba moderno almeno per me guardiamo come è venuto deve essere un capo che somiglia molto a una t-shirt una regola fondamentale che qui la cuffietta della manica non deve essere ricciata o con dei rotolini vedete come cade per questo abbiamo lavorato prima con la modellistica ora me la metto e vi faccio vedere la seconda manica non l'imbastisco eccomi qui sono molto soddisfatta di me stessa perché ho raggiunto il mio obiettivo una t-shirt in cotone guardate qui ho la libertà necessaria ma non troppa perché ho salvato una parte della penseno guardate che manica liscia senza ricciature o cuffie troppo in evidenza chi vuole fare una manica ancora più scesa la può fare orlo manica a margine 2 cm anche margine sotto 2 cm una blusa t-shirt così è indispensabile nel mio armadio l'unica modifica che farò toglierò da qui un centimetro e solo dopo inseriremo la striscia per rifinire il girocolo lo farò dopo non adesso perché mi è impossibile però faremo una terza parte e vi faremo vedere come si fa questa rifinitura è importante e per questo voglio farvela vedere ora guardate un po' tutto in generale devo dire che quando sei lì che da un bel po' di tempo pensi a come fare un capo lo immagini, lo disegni nella tua testa ma non hai tempo di farlo e quando finalmente lo fai ti porta a una soddisfazione impossibile spiegare la parola dovete solo provare per credere mettete mi piace e condividete i nostri video iscrivetevi al nostro canale e rimanete insieme a noi saluto tutti con voi sono stati Paus Tirna e Michalovna e tutto il nostro team